5.000 metri quadrati di laboratori. Nasce il nuovo polo tecnico dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise di Teramo. Oggi è stata posta alla prima pietra un investimento importante per l'intera comunità scientifica abruzzese e internazionale. 17 milioni di euro per questo primo lotto che sarà realizzato a collaterrato alto a fianco del centro di formazione dell'IZS. Un sogno che diventa realtà. Cosa significa questo per l'IZS di Teramo? Significa che sono 20 anni che sogniamo di avere una nuova sede, finalmente sono arrivati i fondi, finalmente siamo riusciti a fare una progettazione esecutiva e finalmente depositiamo la prima pietra. È un edificio di quasi 5.000 metri quadrati con un contenuto tecnologico di altissimo livello, perciò costa così tanto, ma stiamo già appaltando il progetto esecutivo di tutto il resto dell'Istituto perché abbiamo altri fondi per andare avanti con il secondo e terzo lotto. Presidente, è una prima pietra importante oggi? Sì, siamo qui per mettere una prima pietra sulla costruzione di questa nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico, un istituto che per la nostra regione, per il nostro territorio è stata un'arma decisiva nella lotta al Covid. Ancora oggi continua a svolgere fino in fondo il suo lavoro di laboratorio per i tamponi e non solo, anche nella ricerca, l'individuazione delle varianti che sono presenti sul territorio ci ha consentito di adottare azioni mirate, vedi il caso di Guardiacrele che abbiamo immediatamente individuato e circoscritto, anche se purtroppo ormai la diffusione delle varianti è molto ampia su tutto il territorio regionale e nazionale. E mentre si inizia a costruire la nuova sede tecnica dell'IZS a Collatterrato, il Comune di Tenamo pensa di riorganizzare urbanisticamente l'area della sede principale dell'Istituto, in via Campo Boario. Come viene riorganizzata poi l'area? C'è ovviamente un ragionamento aperto, la volontà è assolutamente quella di mantenere il presidio, anche rendendolo compatibile, ancor più compatibile con l'assetto urbanistico dell'area, della zona, del quartiere. Questo intervento di oggi lo vedo più che come uno spostamento, una sostituzione, come un rafforzamento, un potenziamento del presidio dell'IZS sul territorio, l'IZS che va assolutamente valorizzato, più di quanto sia stato fatto finora perché costituisce un'istituzione fondamentale per la città e non solo ovviamente per la città di Terma.